Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni e con tendenza fino a 15 giorni, come dire che le nostre previsioni sono cosiddette previsioni medium range. Una novità di rilievo, arriva la prima vera ondata, seppur breve, di freddo di origine polare. Tre fasi, una prima fase tra il 17 e il 19 di novembre quando sul centro nord dell'Italia insistono freschi venti atlantici ma ora poco piovosi, venti tiepidi al sud, debole piogge su regioni tirreniche. Una seconda fase tra il 20 e il 23 di novembre quando un nucleo di aria fredda proveniente dal circolo polare raggiunge l'Italia, piogge ovunque, nevicate sulle Alpi con accumule fino a 20 centimetri a quota inferiore a millimetri. Forse qualche debole nevicata anche sul versante adriatico delle regioni centrali. Temperature massime inferiori a 10 gradi al nord, inferiore a 15 al centro, tra 15 e 20 gradi al sud e sulle isole maggiori. Una terza fase tra il 24 e il 28 di novembre quando venti atlantici più omiti porteranno debole piogge sulle regioni tirreniche. Temperature in questa fase in lieve rialzo.